Amici del Piccoli Magazine sono in compagnia della Miss uscente Roxanne che ha ceduto la corona questa sera Una Miss che durante tutto il 2023 ha portato in alto la corona, sempre presente ai nostri venti Insomma, tanta pubblicità, tanto impegno, tanta professionalità Roxanne, com'è stata cedere la corona? Un'emozione? Sì, è stata un'emozione che ti prende il cuore perché comunque sei stata, hai preso questa corona Hai rappresentato tutto il locale per tutto questo tempo e ti poni queste domande se poi chi arriverà dopo Riuscirà a mantenere sempre un livello di questo tipo per portare l'attività di Miss Trap Company avanti È stata un'emozione davvero, un'esperienza molto soddisfacente, mi sono divertita tantissimo Grazie per tutto il tuo mandato, ricordati che la Miss è una Miss per sempre Un saluto al Piccoli Magazine Grazie a tutti